Guido Gian Giacomo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Vasto, lei nei giorni scorsi ha rivolto un appello al resto dell'opposizione parlando di un tavolo comune per preparare i consigli comunali, un tavolo comune per preparare una strategia unitaria contro l'amministrazione comunale o comunque per il centrodestra e per le opposizioni. Come è andata? In realtà è stato il direttivo del mio partito a rivolgere questo invito, proprio perché noi vogliamo allargare l'azione che oggi è ridotta a delle semplici azioni che si svolgono in Consiglio Comunale, la maggior parte delle volte anche improvvisate, per esempio sul Civeta abbiamo firmato al volo una convocazione di un Consiglio Comunale che ci sarà a breve, la stessa cosa è stata in difesa del Tribunale. Ecco, io dico l'azione non può avvenire solo da parte dei consiglieri comunali e solo dentro il Consiglio Comunale in quel momento, quindi come si è sempre fatto in passato e come si fa in ogni opposizione che vuole fare un'azione efficace e non vivere momenti di gloria dei singoli consiglieri comunali mediante la firma o la proposizione di una singola iniziativa, che vadano coinvolti direttivi perché esistono dei partiti, quantomeno per Fratelli d'Italia e per Forza Italia e comunque esistono delle liste che a monte hanno eletto i consiglieri comunali, anche se oggi siamo un consigliere comunale per il gruppo, e vadano coinvolte anche queste persone. Ecco, il mio è sempre un momento corale anche per evitare che, chiudendoci su noi stessi e quindi rimanendo in otto protagonisti, poi vedremo che siamo di meno in realtà, alla fine, fra quattro anni ci troveremo con sempre la stessa situazione che non si crea un momento di coralità solo durante le votazioni. Quindi sia per coordinare sinergicamente, sia soprattutto per estendere l'azione amministrativa anche a persone che non siano consiglieri. Come è andata? Male, male perché ovviamente il 5 Stelle ha, educatamente devo dire, fatto sapere che il 5 Stelle non fa accordi con Forza Italia e questo non mi meraviglia, ma non era un accordo, si trattava di coordinare un'azione politica, come noi firmiamo le interrogazioni e interpellanze che riteniamo valide loro, loro possono tranquillamente coordinare con noi questa azione. Mentre per quanto riguarda gli altri consiglieri, con De Mondo Laudazzi non è sembrato entusiasta di questa iniziativa, lui segue un percorso personale che io esito a tratti, non a tratti, a definire anche un divago, perché a volte appoggio iniziative del centro-sinistra alla Regione, a volte poi qui fa opposizione, quindi posso anche capire che non voglia partecipare a un tavolo coordinato, preferendo avere la mano libera e gestire come preferisce la situazione. Per quanto riguarda gli altri, quindi la consigliera Cappa, Delisa, Suriani e Del Prete, si è manifestata un'apertura, diciamo, teorica, loro bisogna concretizzarla, finora più volte abbiamo convocati ma non sono venuti allo stesso tavolo. Insomma un centro-destra che rischia ancora una volta di presentarsi diviso almeno in due tronconi, come è successo già negli anni scorsi. Ma è atavico, irrisolvibile? Proprio questo, volevamo cercare di evitare con questa cosa, cioè evitare che poi l'Unione si ritrovi con pseudo-accordi o con pseudo-coordinamenti gli ultimi 5-6 mesi. La politica non si fa alla fine, cioè nelle campagne elettorali si fa lungo tutto il periodo, diciamo, in cui si svolge un mandato elettorale. Quindi un semplice coordinamento dove ognuno mantiene la propria autonomia nell'ambito del Consiglio Comunale, ma dove anche prima dei Consigli si va a concertare, per esempio abbiamo un Consiglio sul Civeta che io ho richiesto sui problemi del Civeta, ora prima di andare in Consiglio un momento di corale, di coordinamento non ci starebbe male, a meno che una volta avuto il Consiglio ognuno vuole andare lì, fare il suo intervento e vivere il suo momento di gloria. Non è questa la logica che sottintende me stesso e il partito che rappresento. Gli altri consiglieri del centro-destra le dicono, le accusano di non fare opposizione vera, di essere troppo vicino all'amministrazione comunale, quasi consociativo. Beh, credo che ho 25 anni ormai che rappresento i partiti di Forza Italia e sono forse l'unico che non è mai uscito e entrato da un partito. Ogni volta vengo accusato di questo, a ogni votazione puntualmente mi ricandio con lo stesso partito e puntualmente finisco all'opposizione. Se mai avesse avuto un consaggiativismo, ormai me lo accusano da 15 anni, sarei dall'altra parte, non qui. Come qualcuno peraltro è anche fatto del centro-destra, ci sono parecchie presenze del centro-destra e del centro-sinistra, non sarebbe stato del tutto impossibile, quindi non credo. Se il sottoscritto avesse voluto, da tempo sarebbe dall'altra parte. Non è interessato a poltroni, corro sempre dalla stessa parte anche quando spesso si perde, anzi, ultimamente si perde sempre, ma non per questo mi sposto di un millimetro. Quindi non so di a quale consaggiativismo si riferiscono. Se si riferiscono a provvedimenti che voto con il centro-sinistra o che voto con il centro-destra, io voto secondo le direttive che il mio partito, nell'ambito del suo direttivo, mi dà e secondo quello che ritengo essere per il mandato dei cittadini, conferito con i cittadini, il bene comune. Quale messaggio vuole lanciare alle altre forze del centro-destra? Un po' più di concretezza o un po' meno di polveroni. Io dico un'opposizione meno gridata e più ragionata forse fa meglio anche il servizio per i cittadini.